buongiorno e bentornati sul canale se ricordate circa otto mesi fa stiamo parlando di ottobre del 2020 ho recensito questo portafoglio della moero portafoglio smart appunto della moero e è stato uno dei video sicuramente più visti del canale un canale appena nato quindi diciamo nel ottobre a pochi mesi e diciamo per un canale di 1300 iscritti avere quasi 10.000 anzi più di 10.000 visualizzazioni e 115 like insomma è stato diciamo uno dei video più visti appunto del canale e quindi ho deciso di vedere dopo otto mesi come si comporta ancora questo portafoglio della moero quindi come mi sono trovato e come e come si è trovato lui con me diciamo quindi dopo la sigla vediamo insieme il portafoglio moero dopo otto mesi ed eccolo qui allora guardiamo prima di tutto la pelle come vedete perfetta ok integra in tutte le parti guardate come bello ancora si tratta del vi ricordo del saffiano e quindi di questa particolare pelle che essendo così ruvida diciamo secondo me resiste ancora di più magari al tempo e vedete insomma che effettivamente è integra guardate anche le cuciture volevo farvi vedere insomma le cuciture sono veramente perfette guardate qui intorno metto un po' a fuoco ma penso che si veda occhio insomma che è ancora perfettissimo quindi resistente andiamo a vedere anche la chiusura vedete la chiusura a bottone che diciamo non ha avuto nessun danno vi ripeto vi dico che questo portafoglio lo porto sempre con me quindi sempre in tasca insieme alle chiavi e quindi insomma diciamo non ha subito nessun danno vedete il bottone ancora perfetto anche le cuciture che insomma le linguette che lo regolano guardate c'è ancora il gommino sotto per proteggere il metallo insomma devo dire veramente veramente perfetto l'unica cosa che vedete un po si è rovinata ma è la diciamo la custodia qui in alluminio che vi ricordo la custodia rfid che appunto impedisce la cronazione delle delle carte che ci sono all'interno vedete sui bordi si è leggermente un po scolorito ma penso più che altro per il contatto appunto con le chiavi e porto in tasca però se guardate la scritta muero perfetta cioè non si è scolorita non si è graffiata guardate come bella è così anche qui in alto vedete ancora un po si è un po di un po scolorito ma diciamo niente di particolare andiamola a vedere anche dentro andiamo ad aprire vedete qui ho la carta di vendita la patente codice fiscale classiche cose che si portano andiamo a vedere anche la parte delle banconote vedete che su qualche video insomma è stata un po criticata proprio perché non è di pelle ma è in questa plastica ma se vedete guardate c'è un po di polvere ma è perfetta c'è non ha guardare sembra nuova giusto perché un po è polverata ma la linguetta calcolate che io porto sempre insomma un po di banconote non tantissime però diciamo perché ormai si usano molto di più le carte anche nei negozi insomma e però come vedete un po di spicci ci sono sempre devo dire veramente non si è toccata perfettamente guardate le cuciture collata perfettamente quindi senza nessun problema l'unica cosa che vi vedete qui diciamo dove è incollato diciamo la parte di metallo quindi il portacarte alla pelle vedete qui c'è uno spazio che un po si impolvera quindi ogni tanto gli do una soffiata insomma faccio un dito così giusto per togliere un po di polvere ma niente di che è quindi perfetto e andiamo a vedere anche il portacarte che è un po la cosa più particolare del prodotto vedete come funziona ancora perfettamente guardate qui le blocco per evitare che si può rivedere i codici però come vedete è perfetto quindi ora ci ripasso il giorno ma molto spesso anche in tasca io ci gioco no faccio perché comunque sia è davvero fantastico guardate le carte normalmente io scuoto e non succede niente quindi le carte rimangono perfettamente bloccate all'interno ne ho messe insomma quelle che utilizzo quindi vediamo sono sono 5 quindi diciamo quelle che porto spesso quindi dietro quindi 5 e più ci sono le due carte diciamo tessera sanitaria e patente e tutto come vedete sottilissimo da mettere in tasca quindi senza senza problemi io porto sempre nella tasca avanti dei pantaloni ovviamente è talmente piccolo che diciamo non ci non ci si fa caso è veramente un ottimo prodotto ve lo consiglio quindi ho già ve l'ho consigliato l'altra volta questo è il portafoglio degli youtuber no vedete infatti ne trovate tantissimi insomma soprattutto i più famosi youtuber d'italia l'hanno recensito insomma lo provano anche ogni mese esce il moero del mese e ne trovate tantissime recensioni la mia diciamo ve lo dico subito è una recensione assolutamente non sponsorizzata dalla moero quindi il portafoglio l'ho comprato io e non ho avuto insomma nessun regalo e nessun invito a recensirlo e però diciamo essendo un prodotto che reputo davvero ottimo ho deciso insomma di farvi vedere come si trova dopo otto mesi magari ne faremo un altro più avanti magari dopo due anni però devo dire che non ha subito come vedete nessuna nessun danno allora anche per questo video è tutto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale è una cosa importante magari mettete anche la campanellina e così non perdete nessuna informazione sui prossimi video e soprattutto insomma se vi è piaciuto questo video magari mettete un like un commento ditemi se anche voi magari avete utilizzato il portafoglio moero magari anche diciamo invogliati dall'altra mia recensione che vi ripeto è stato uno dei video più seguiti del canale e quindi per questo è tutto un saluto e un abbraccio da stefano e quindi per questo è tutto un saluto